Effetto batteria. Che cosa fa la persona che pensa? Commento. Ogni persona per il fatto stesso che pensa produce energia pensiero. Se le persone che pensano allo stesso modo sono tante, producono un effetto batteria, in cui ogni elemento della batteria, sommato all'altro, spinge in alto il potenziale della forma pensiero come accade nelle preghiere collettive.